Eeeh, ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Gatti. Come state? Spero tutto bene. Oggi video recensione di una clipper che ho desiderato da matti. E la clipper in questione, ragazzi, è la Wall Magic Gold. Che appunto, ragazzi, ha qualche modifica in più, qualche chicca in più da non sottovalutare assolutamente. Prima di partire, mi raccomando, lasciate un mi piace, commento e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere se questi contenuti vi piacciono e se devo portarne altri. E direi finalmente di partire con l'unboxing, anche perché veramente non ce la faccio più a resistere e voglio aprirla. Ecco qui la scatola, ragazzi. Classica scatola Wall, ormai siamo un po' abituati. Diciamo che chi non ha mai comprato una Wall è fuori dal mondo, non è un vero barbara, diciamo. Infatti sopra vediamo la clipper bella bella stampata sopra, bella tamarra dorata. Con scritto tutte le caratteristiche fondamentali, ovvero quelle che vedremo fra poco. Poi vediamo Wall scritto un po' in tutte le parti, descrizioni e andiamo ad aprire. Nel frattempo che tolgo la scatola, la copertura qua della scatola, beh sì, ci tengo a precisare che la Wall Magic è stata la prima, la primissima clipper che io ho preso per andare a fare appunto delle sfumature per le professionali. Ricordo che all'inizio le facevo solo con Panasonic e non so veramente come facevo. Poi con la Magic ho fatto veramente un upgrade incredibile. Ora con la versione Gold, oltre ad essere più tamarri, sicuramente possiamo fare lavori ancora più fighi, quindi sono veramente in fuga. Raga, la Magic è veramente una clipper, una delle migliori secondo me in commercio. Così poi potenziata deve essere devastante. Dopo aver tolto la copertura della scatola abbiamo scritto Wall anche qua un po' in tutte le parti, una scatola bianca molto semplice. Andiamo ad aprire. Oie! Ci sono andato di faccia secco. E una volta aperta la scatola, prima cosa che vediamo ovviamente è la clipper. Adesso appoggio un attimo la scatola lì per vedere la macchinetta, ragazzi. Eccola qua, bellissima. Ragazzi, bella tamarra, proprio spinta, eh. E infatti come mi ricordavo, oltre a quella, adesso poi ne parleremo bene nel dettaglio, è ultra leggera, ragazzi. Bella, che fega! Sono casatissimo, ma prima guardiamo cosa c'è dentro la scatola. Andiamo ad aprire la scatolina che c'è qua. Ah, raga, devo aiutarmi dopo per forza a far così. Prima cosa che andiamo a vedere, ragazzi, sono le misure. Classiche misure Wall, vediamo quali ci sono. Anche perché a volte, ragazzi, troviamo delle misure in alcune scatole, in alcune no. Vediamo. Ad esempio, mi ricordo che nella Legend non c'era la 4,5 e la 1,5. Che mica, sono le più, sono parole più importanti. Qui abbiamo la misura più lunga, che è una 19 mm, una 13, una 10, addirittura, ragazzi, la 25. Poi abbiamo la 6 e la 3. E anche qua non c'è la 4,5 e la 1,5. Ma com'è possibile? Cioè, sono le misure più importanti, non possono mancare. Che addirittura, se non mi sbaglio, c'è pure nella scatola, c'è scritto che c'è la 1,5 e la 4,5. Però non c'è, non è vero che c'è. Ah no, scusate. Scusate, ragazzi, erano in un pacchetto a parte. Scusa, Wall, non volevo offenderti. E abbiamo anche la 4,5 e la 1,5. Che appunto sono le misure più importanti. Oltre che la 1,5 nuova è sempre bellissima. Non so a voi se succede, ma tipo io ce l'ho tutte sfaccate, coi dentini tutti mangiati. Perché modificando le clip per vado a mangiarmi una misura. Quindi una nuova serve sempre. Poi all'interno troviamo anche, ovviamente, i libretti delle istruzioni che lanciamo. Però che palla, ormai facciamo sempre le solite cose. Oltre che l'immagine sul libretto non è dorata, non è tamarra come nella realtà. Sembra una super taper qua. Comunque va bene. Va bene, ho finito. Poi troviamo una bustina con dentro l'olio e il pennellino. Per andare a mantenere sempre bella pulita e bella oliata la nostra clipper. E se non mi sbaglio ci dovrebbe essere, che è proprio questo. Bello. Lo stabilizzatore di ricarica. Ragazzi, io non so perché la Wall fino a mo' non l'aveva mai fatto. Però questa è la vita, cioè la gioia. Mettete la clipper sopra, tipo così. Ed oltre ad occupare meno spazio, cioè, ragazzi, è bellissima. Poi la scritta Gold della Wall sotto, bellissima. Vediamo cosa troviamo ancora. All'interno c'è il cavo di ricarica, che sicuramente è lunghissimo, classico 2 metri, come classico caricatore Wall. E per concludere, penso, sì. Spaccato tutto. C'è il classico pettine, che appunto la Wall dà sempre in dotazione, quello che usiamo per andare a rasare con la nostra clipper le parti laterali. Quelle più lunghe. Vabbè, non vi devo spiegare a cosa serve. Usatelo per quello che volete. Ora parliamo della clipper in sé. Ve la faccio vedere prima da vicino, quindi ce la studiamo un attimino. E poi vediamo le caratteristiche principali. Eccolo qua, finalmente, la nostra clipper. La nostra Magic Gold Tomah Raid on the Wave. Allora, prima cosa che si fa vedere sicuramente è la cover davanti bella dorata, con la scritta Wall. Le 5 stelle, Magic Clip Cordless, in dorato anche quello. E un quadratino nero per appunto andare a scrivere in oro il nome della macchinetta. Qua c'è un buchetto che lo chiamo appoggia pollice, poi non so se è veramente il nome professionale. Comunque molto molto comodo, in posizione perfetta. Sotto troviamo uno Smart LED che ci va a indicare quando è scarica la macchinetta, quando è sottocarica, eccetera eccetera. Però che è facile. Poi sotto c'è il gancettino per andare a pendere la clipper da qualsiasi parte, non fatemelo più fare che ho paura che cade. E sotto il buchetto per inserire il cavo di ricarica. Dietro troviamo delle pieghette molto comode appunto per non far scivolare la clipper, anche per un'impugnatura più sicura. E dietro abbiamo una testina gold con le lame black. E ora vi dirò quali sono le caratteristiche più importanti appunto di questi elementi qua. Prima cosa, hanno modificato le lame. Sono in DLC in carbone e tutto quanto con lame più affilate e più lunghe per appunto migliorare la precisione di taglio. La testina è di 46 mm e ha una tecnologia crunch che ancora non ho ben capito a cosa realmente serve. Penso che comunque faccia durare la testina più nel tempo, scivola meglio sulla cute, qualche beneficio deve pure averlo. Adesso io mi sono informato ovunque, su tutti i siti e cose varie, c'è scritto solo tecnologia crunch, quindi non sapremo mai che cosa vuol dire. Se lo sapete ragazzi scrivetelo qua sotto nei commenti perché non per forza devo solo passarvi le cose io a voi, ma potete voi passare delle informazioni a me. Super leggera, pesa circa 300 grammi, quindi su questa roba qua ragazzi la magic forse è una delle migliori clipper in assurdo. La levetta, molto figa, che prima non ho fatto vedere, è dorata e la cosa interessante è che tutta aperta fa una 1.5, tutta chiusa fa uno 0.5. Ovviamente io l'ho modificata, quindi tutta aperta farà un 1.2, che è pochissimo raga, e tutta chiusa fa uno 0.4, 0.3. Vi giuro che ho provato a passarla a confronto con la Detailer che sarebbe la Trimmer sempre della Wall, praticamente fa più corto questa che la Trimmer. Cioè ragazzi, pazzesco. La batteria ha gli ioni di litio che dura 100 minuti, quindi niente male, e la cosa bella è che hanno potenziato appunto questi fattori qua sulla batteria e sulla potenza. Infatti fa ben 6.500 movimenti al minuto, che diciamo non è il massimo dei massimi perché ormai sul mercato si trovano numeri incredibili, 10.000. Ho provato una Clipper che fra poco uscirà un video che fa 15.000 tocchi al minuto, ragazzi poi la vedremo. Il fatto sta che per quanto è leggera, per quanto è comoda, 6.500 movimenti sono abbastanza, vanno benissimo ragazzi, fidatevi. L'indicatore smart che appunto vi ho fatto vedere prima, molto utile appunto perché fa vedere se è scarica, se è sottocarica, eccetera eccetera. Quindi praticamente le modifiche principali alla fine sono sulla lama e sulla testina, che appunto hanno questa tecnologia crunch e lampia affilata che dura di più nel tempo ed ha anche un taglio più professionale di una qualità migliore. E poi cambia la durata, la forza, la potenza e soprattutto lo stile. Perché ragazzi sullo stile a questa macchinetta qua non gli si può dire niente. Per il prezzo e la qualità forse è un pochino altino, però ragazzi fidatevi, una volta che la proverete è veramente devastante. Io la sto usando tantissimo, mi ha fatto tornare in mente vecchi ricordi di quando usavo la Magic quella di rossa e questa effettivamente è molto meglio. Quindi se dovete scegliere di prendere una wall tra la Magic vecchia e la Magic nuova sicuramente vi consiglio questa Magic qua. Se dovessi dare un voto finale a questa macchinetta, gli do un 8 per lo stile, perché su quello non si può dire niente. Sulla potenza, comunque sul risultato che dà, perché di lama, di taglio è veramente incredibile. E sinceramente la ricomprerei altre 100 volte, anche se non l'ho comprata, ma comunque ragazzi se dovete comprarla, compratela, gli datevi è buona. Quindi ragazzi spero che questo video vi sia servito, fatemi sapere se questa Clipper vi piace con il crunch technology che appunto non ho ancora capito cosa sia. Mi raccomando lasciate un mi piace, commenti, iscrivetevi, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cos'è sto crunch e mandatemi su Insta delle foto di lavori che avete fatto con questa macchinetta. Ci vediamo al prossimo video, vi voglio bene, ciao!